ruolatrici e oratori bentornati a un'altra puntata di need tales abbiamo cambiato l'orario per semplice fatto che sto avendo un po di casino il giovedì molto spesso devo partire e quindi non ce l'avrei fatta fra la sera quindi switchiamo gli orari lunedì 17 19 giovedì 15 17 purtroppo facciamo così e via dicendo è un weekend bello bello aggressivo è stato per me questo qua io ero guidato per quasi dieci ore stavo impazzendo veramente impazzendo trovate incidenti ovunque e di più sono putrefatto oggi però l'abbiamo portata a casa il risera voleva fare una bella sessione anzi no un focus group di grazie marta per la sub per per salva junior ma è non ce l'ho fatta quindi ero proprio massacrato non non ce l'ho fatta recupererò recupererò in questi giorni questi giorni mi devo chiudere a finire il dagio 24 ma che so non lo chiuderò mai quindi mi mi chiedo dentro si guarda ragione tommy infatti oggi dovrò cambiare macchina breve e visto che faccio in circa quasi 4000 chilometri al mese e prenderò una macchina col gpl sono spendo veramente follie di benzina cioè veramente follie mi toccherà allora puntata di oggi come sapete nil tales è più dedicato a ciao squara grazie mille grazie mille per la sub è più dedicata le persone neofite no perché ho voluto fare questa puntata questa puntata l'ho chiamata scopriamo assieme gli eventi gdr di quest'estate ovvero da qua a settembre fondamentalmente questo perché mi sono reso conto che tantissime persone specialmente le persone neofite conoscono solo il play e lucca come fiere o momenti diciamo dove andare a giocare di ruolo che non sia la classica il classico gruppo a casa o su discord cioè non hanno idea di quante realtà eventi pubblici gratuiti ci sono di quanti convention ci siano di quanti anche eventi associativi ci siano o banalmente delle delle chiamiamoli eventi cena dove si va a mangiare un panino una birra e si gioca di ruolo neanche io ne conosco molti e cioè nel senso io ne conosco molti ma non ne conosco altrettanti faccio un esempio questo questo sabato sarò al ruolo a palusa e l'ho scoperto settimana scorsa non sapevo neanche che ci fosse sicuramente oggi parleremo del delto play parleremo della fab con parleremo del friere pg day parleremo anche perché mi hanno girato prima ad esempio un un secondo che mi ha scritto su instagram paolo un secondo mi ha scritto su whatsapp cazzo mi ricordo già perso ragazzi telegram forse si telegram un altro evento fighissimo quindi c'è venite al torino al to play siamo gli sponsor del to play ale quindi logico che ci siamo siamo i main sponsor del to play quindi io non so se personalmente io ci sarò perché ho il trasloco in quei giorni e il rogito in quei giorni quindi se se devo traslocare non riesco a esserci ovviamente però tutti gli altri ci saranno stai fumare che voglio fumare allora voglio parlare anche con voi è perché io adesso cosa farò mi farò vedere cosa faccio mi capita nei weekend in cui sono libero ogni tanto capita e quando weekend libero dagli eventi gdr o che non sono con mia figlia che cosa faccio beh ovviamente cerco se c'è un evento gdr delle vicinanze che mi piace di bestia giocare di ruolo e voglio vedere con voi tutti gli eventi che ci sono nei prossimi mesi o meno i più importanti e perché sono così belli e soprattutto che grande differenza c'è andare a un evento del genere rispetto a una fiera sono cose totalmente diverso al kind of the world community ora si chiede l'elettronica scarica ma recuperiamo recuperiamo subito il danno aspettate 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 eccomi eccomi allora allora oh ho rotto tutto eh vabbè è la vita degli oggetti quella di sfruttare con le mie mani top carica o no mettiamo quello che carica più potente però top che topperia ragazzi allora questo weekend ad esempio c'è ruola palusa tutti mi direte che cazzo è ruola palusa effettivamente non si vuole anche io che cazzo fosse quindi sono andato a informarmi vi faccio vedere cosa faccio di solito in questo caso qua si apriamo il nome quindi andiamo a vedere ruola palusa è a Parma ok è sabato dalle 10 guardiamo assieme che cosa dice ci sono una marea di associazioni coinvolte io già di qua ne conosco molti e sono incredibili da vabbè gli amici Polentolosi Agico on the Wall Take a Play Master Tag OSR Pizza Live of Dice La Buca del Cobol di Storytellers e Sals Ludix questo non lo conosco non so chi siano però vabbè grazie lo stesso che portate GDR in giro allora una giornata dedicata al gioco di ruolo organizzata dal Falò del Vagabondo grande Falò del Vagabondo ci troveremo a Parma per vivere insieme questo evento aperto a chiunque si è interessata non preoccuparti se non hai mai giocato o non conosci il regolamento dei giochi al tavolo troverai persone gentili e pronte a spiegarti tutto il necessario tre turni di gioco dalle 10 all'una dalle 3 alle 6 e dalle 9 a mezzanotte e così portare un posto per le sessioni ciò su queste tre fasce orarie state attento a portare più tavole nella stessa fascia oraria qui si può portare anche pranzo per la cena l'escrizione all'evento non è obbligatoria partecipare ma caldamente consigliata comunque possiamo ricarsi l'evento in un'altra giornata per ci fare ad eventuali tavoli liberi vediamo che biglietti ci sono io so già cosa giocherò però il bello, il sexy e il cattivo con mangio già questo pazzesco un raccolto di ferocia di take a play fabula ultima il castello di Lady Carmilla la malerba nel giardino sventole balistiche non conosco questo gioco operazione fra i fly e the bridge lo conosco questo gioco daccajar lo conosco questo gioco neverland lo conosco questo gioco se ben sì lo conosco questo gioco troica ecco io faccio uno dei tavoli che faccio è la la multitavolo di troica quindi io giocherò a troica al mattino e il pomeriggio il pomeriggio ho fatto una cosa che non si fa ragazzi ragazze voletevi dire che cosa ho fatto ho prenotato due tavoli nella stessa fascia oraria al pomeriggio perché non sapevo che cosa fare ma uno di questi è combatta quindi me ne sbatto i coglioni e quindi l'ho fatto lo stesso che era indeciso se fare TTG o salvagunion mi sa che farò salvagunion scusami batta lo so lo so lo so ti amo però c'è TTG assieme abbiamo giocato un botto non no vabbè me lo cancelò oggi l'altro tavolo era indeciso eh faccio troica al mattino e e salvagunion nel pomeriggio salvagunion te lo consiglio grazie Maggie posso un po' infatti sono contento che ti piace guarda ero molto indeciso perché entrambi se salvagunion che TTG li pubblica uno stronzo quindi era un pochettino era un pochettino indeciso ma aspettisi Chris ci sei tu squara ci sei venite voi ragazzi a al rollapalooza apparticare il più bello cioè ragazzi veramente chapeau agli amici del falò del vagabondo perché hanno scelto un nome per questo evento che è veramente figo aspetta un secondo che metto lo stream deck come ogni volta che se no faccio burdel allora usa più il bottone si funziona così ve lo metto perché se no ogni volta cliccare ci divento scemo stream deck stream deck apriti apriti stream deck details eccolo qua perfetto così almeno mi vedete più bello sono molto più bello molto più carino non credo di riuscire questo è problema che non è scusa Chris non non volevo farmi gli affari tuoi scusami ttg bellissimo e amo luca però one shot di salvajunion tanta roba tasso ti sta percuotendo forte beh ti sta torquotendo forte ok sono atroce no comunque per farvi capire torniamo a noi uno non sa che c'è un evento del genere c'è ci sono tre sessioni gdr una sola spara tutte e tre sono nove ore di sessioni in un giorno totalmente gratis si va in questa birreria talmente anche figo si mangia un panino si beve una birretta e si ruola durissimo un sacco di giochi tantissimi giochi quindi figo molto figo bene Chris sono contento di aver preso la fab con io sempre trasloco permettendo trasloco permettendo ci sono io ho già l'hotel e tutto a fab con infatti devo parlare adesso con gabri per vedere se portare o meno queste cinque sessioni il problema è che non so ancora come cazzo il trasloco cioè per farvi capire non so se vada alla gencon io ovviamente in games va io non so se potrò andare alla gencon perché perdere dieci giorni per il trasloco e via non lo so Tommy lo vediamo assieme adesso vediamo assieme tutto adesso vi faccio vedere come cercare gli eventi per capire che cosa c'è da qua nei prossimi mesi e questo è solo uno degli eventi che c'è questa grosso allora contiamo quanti tavoli ci sono perché sapete che non ho idea di quanti tavoli ci siano vediamo al mattino là ce n'è uno allora uno due tre dovrebbe essere diciannove tavolo quattro tavolo cinque tavolo sei diciannove tavoli cioè ci sono diciannove tavoli cioè un boato grazie 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 x per x aeree per per la sub zering allora non so se io so la fabcon porto cinque sessioni alla fabcon porto cosmosaurus the job dolmenwood piaga e o salva junior o slice of life se c'è un bel playtest definitivo se lo facciamo uscire a lucca quindi ho cinque sessioni e non so quanto tempo sto perché poi sono dal 25 sono con mia figlia quindi ovviamente mia figlia è la priorità su tutto quindi non so se ci sarà la fabcon non lo so veramente io opererò arcana champs of tarot e bevento mori ma per dici dici per per questo sabato marco che mi piace che c'è di voi alla a ruola palusa so che c'è batta c'è c'è la jo c'è anche giorgia no fede poi c'è c'è albe c'è lali c'è 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 marco e c'è un po' di gente comunque c'è figo figo molto figo lo scimmiotto di pietra top c'è un po' di gente ragazzi c'è fighissimo è a un'oretta di macchia da milano circa io partirò presto perché il primo turno inizia alle 10 voglio essere di un pochettino prima quindi per le per le boh penso per le 8 partirò da milano una cosa del genere se qualcuno vuol venire da milano io ho posto in macchina può può venire lo porto giù io non ci sono problemi soffio il naso mi muto in ruola palusa 60 per il concerto di vasco purtroppo beh la musica è un'altra passione devastante quindi non capisco perfettamente capisco perfettamente cioè io ho il 21 ho il ho il bergamo ho il bergamo comico ho il comico una bergamo ma il 21 sera sono come si chiama al concerto di gg doug quindi c'è nel senso unisco l'utile al dilettevole e poi tornerò indietro la mattina dopo comunque tornando a noi questo qua è un esempio no questo sabato qua ma cosa c'è ancora questo sabato vediamo sempre su su event bright la cerchiamo eventi allora zona mettiamo italia italia mi prende tutta italia gdr non so cosa ci sarà eh minchia un botto di roba c'è allora vediamoli tutti perché è giusto è giusto vedere è giusto vedere le che cosa c'è no batta non ho ancora deciso inutile che vendi i miei posti pezzo di merda cioè decido e poi vedo non è che non c'è nicola allora riscriviti non ho ancora deciso quando deciderò allora potrei dare via il mio tavolo sì sì no ma c'è un botto di roba allora vediamo cosa c'è allora c'è il gdr al buio al the lab il 9 giugno che cos'è il the lab the lab è questo pub vicino a lodi dove si va drink and play vai lì ti siedi e giochi vediamo ma non te lo metti in ordine di date sto stronzo poi che cosa c'è c'è il cortona comics fatto da ah da peter pan ragazzi la peter pan è un'associazione bellissima sabato 25 maggio vediamoli tutti vediamoli oggi dedichiamo oggi dedichiamo alle associazioni e alle persone e ai locali che si spaccano per il gdr entra sedia e gioca a cosa lo scoprirei solo al momento di iniziare allora premetto premetto una cosa io io nicola non sono fatto per il gdr al buio no non è non è il mio perché io voglio sapere che cosa gioco però in realtà ma perché perché conosco tantissimi giochi alcuni non mi piacciono ma per chi invece neofita di gdr fate il gdr al buio così scoprite giochi a manetta che non siano il classico dnd quindi venite qua che ora è domenica 9 giugno perfetto alle 21 andate al the lab vi sedete e giocate poi cortona comics non so anche dove sia il cortona comics sarà cortona immagino non so dov'è cortona è una cortina che si è sfondata di cibo scusate non volevo fare cortina shaming ok ok vabbè allora la smettete per favore cioè nel senso non posso neanche fare una battuta cioè anch'io sono una persona in area a cui piace dire cazzate molto ma Nicola a rischio cosa cioè vi banno tutti cioè non posso dire quel cazzo che voglio stiamo scherzando siamo arrivati a quella fase della vecchiaia in cui si riede le proprie battute ma io riede le mie battute tantissimo io vi dovrò raccontare un giorno la mia barzelletta preferita che io non riesco a smettere di ridere quando la racconto anzi adesso ve la racconto allora per me questa è la barzelletta più bella che esiste al mondo che tutte le persone che l'ascoltano dico che è una merda e invece per me è meravigliosa allora c'è c'è Pierino che va da sua madre e fa mamma io ho un po' di fame e fa no guarda amore amore no la mamma ha appena fatto la torta e e la metto qua sul balcone a raffreddare devo andare a fare delle commissioni per favore per favore Pierino non mangiarla no mamma basta tranquilla ho fame ma figurati se mangio la torta no va a fare commissioni torna e non c'è più la torta lo guarda e fa ma Pierino ma scusami ma hai mangiato tu la torta prima lo vuoi e fa no mamma assolutamente no e invece era stato proprio lui per me questa era tipo la barzelletta più bella che si sta all'uomo ma mi fa morire è un capolavoro proprio è bellissima cioè è una cosa è una cosa di una bellezza una bellezza folle insomma vi racconto quello di una persona molto premurosa però quella ve la racconta batta bellissima capolavoro questa barzelletta perché poi perché poi potete potete ricicciarlo ovunque non so c'è tipo c'è 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 batta che vuole giocare un gdr no gli dico guarda fede ho lasciato gli appunti della sessione però non sta a prenderli perché mi servono no figurati vado un secondo vado un secondo a fare un panel e torno torno non ci sono più gli appunti guarda e faccio ma batta cazzo ma hai hai preso hai preso tu gli appunti no figurati non li ho presi io e invece e invece era stato proprio lui oh dio mio è meravigliosa questa barzelletta c'è una roba di una bellezza una bellezza incredibile sì Marco esattamente quel livello lì siamo non è così brutto invecchiare vi dico la verità cioè ok torniamo noi stiamo parlando di gdr smettete di 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 fai ridere solo perché la dici tu mi dispiace ma infatti ce l'ho ridito io non fai un cazzo se vorrei detto no per me è un capolavoro incredibile un giorno facciamo una live di barzellette sconce a manetta allora torniamo a noi torniamo a noi seri 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 sono di batta meravigliosa allora vediamo poi cosa c'è gdr night playtest metaverse metaversum metaversum via del borghetto 131 quando è quindi anche i playtest avete chiamato al goblin caffè sta a torino immagino no pisa al goblin caffè di pisa quindi anche amici pisani volete giocare di ruolo andate a playtestare gdr night playtest metaversum al goblin di pisa vabbè prima vieni con me se vuoi vieni con me in macchina se vedo giù a fab come giù se no prendi è molto semplice in realtà prendi il treno per ancona e poi da lì c'è il regionale che ci mette 40 minuti non è così male andare giù in realtà a fabriano bello però vedete c'è costo 2 euro più consumazione 1.5 euro 7 euro vi fate una 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 sessione di ruolo ci sta poi c'è 7 giugno cosplay summer festival area gdr avvigevano stabilimento balneare ma come sta figata danny da cringe vabbè ma ragazzi ma che meraviglia nello stabilimento balneare passione della passione shakedown the city crash pandas ma ragazzi c'è bellissimo 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 c'è anche una cosa del genere una roba meravigliosa meravigliosa ma stiamo scherzando è una roba fighissima sta roba qua a civita nova marche quindi vedete comunque stiamo prendendo tante cose in giro guarda c'è ce ne sono ragazzi ce ne sono tantissimi c'è tantissimi quindi vediamo anche altre pagine oh la madonna poi c'è aspetta cosa importante che mi sono fatto girare allora vi leggo il messaggio che ci ha scritto il nostro buon Paolo Farina sono Fadai perché ha organizzato una cosa allora eh con Ivo Dice insieme ad altre associazioni amiche stanno organizzando per il 22 giugno a Cologno Molzese il sostizio di ruolo ah che figo c'è anche un documento uh aspetta ve lo faccio ve lo faccio ve lo faccio aspettate scusatemi che me lo apro su Telegram perché vale la pena c'è tutto un bel documento con la presentazione visto che sono anche amici che fanno queste figate qua voglio farvelo vedere al meglio non è che cercando GDR stiamo cominciando a trovare cose un po' ose e non ce le stiamo accorgendo veramente di ose c'è il senso c'è l'advance il classic sono una persona orribile e disgustosa non ora allora ecco qua ve lo sparo anche più in grande per infilare i PG Day osservate che per i PG Day c'è anche l'Emporium Infernalis a Torino che fa questa roba eh c'è il senso vedi che Twitch può bannarti per queste battute appunto non ci serve il fisico noi siamo un erdo ci passa il digitale allora il sostituto di estate cade il 22 giugno in concomitanza con i PG Day vogliamo festeggiarli insieme giocando di ruolo a Cologno Monzese riunire la comunità del GDR si trà presso La Pieve in piazza San Matteo Cologno Monzese La Pieve è uno spazio no profit eventi culturali con l'acustica perfetta per tenere la bada il classico e la bada il chiasso e i tavoli di gioco anche di un bistro il quanto basta proprio serice snack beveraggio pranzi vi dicendo minchia metropolitana c'è top verde Cologno Cento Cologno Nord 10 minuti a piedi in auto top al programma è il seguente slot sessioni one shot 10 e 13 pausa pranzo con quanto basta bistro slot sessioni 15 e 18 aperitivo di comunità in collaborazione con quanto basta il Pieve è disponibile ad ospettarci fino alle 23 quindi c'è proprio alla grandissima ci piacerebbe partecipare sull'evento anche in casa editrice e game designer potrebbero vendere e promuovere i propri giochi una location omologata per ottenere fino a 150 persone minchia un botto ragazzi bellissimo mi chiede di farci sapere starete disponibili questo link trovate un excel per la call for master posso eh Paolo posso posso linkare questo documento o no chiedo perché non è mio sì certo perfetto ragazze ragazze allora scusatemi non essendo di mia proprietà chiedo ai legittimi oh voilà così qua potete vedere tutto quello che sto guardando io è questo guarda che eye of dice è bellissimo come logo con l'alveare bellissimo veramente bello comincerò da oggi a seguirti più assolutamente su twitch ma guarda grazie mille grazie mille duccio nel senso sono un vecchio rincoglionito però va bene grazie poi allora intanto ce ne abbiamo visti quattro ce ne sono una marea e mezza c'è Ergut ben arrivato continuiamo a vedere le altre cose intanto posso cancellarlo posso cancellarlo andiamo qua allora Vigevano by Night Vampire sesta sessione arco di ingresso neogotico questo qua è Live GDR quindi questo qua è l'ARP Vampire ragazzi se non avete mai provato un LARP questo è un'ottima occasione per andare a provarlo orario del vento dalle 21.30 alle 22 arco di ingresso del gol Castori Vigevano sale del duca Castori Vigevano per chi possiede la dadi card dei dadi ducali 15 euro vedete chi non ce la paga solo a testa quindi fondamentalmente si paga 15 euro top bellissimo ricordate il LARP di Vampire è molto figo grazie Ergut per la sub molto molto figo grandi ragazzi rivigevano poi GDR al buio Cremona questo giovedì quindi se c'è qualcuno di Cremona organizzato da Geek of the Wall da Geek of the Wall o Geek of the Wall al Blue Dojo tre ore e mezza grande Dani e tutto se vedete le cose qua nell'immediato e poi vediamo le altre cose un pochettino magari più più grandi poi torneo GDR torneo GDR ragazzi colpo grosso a Novrigaz come con squadra di Witcher non so perché mi ispira salva qua però con D&D quinta pagamento iscrizione squadra in loco sold out tutto esploso trentesimi rune da razione monobuster prezzo per squadra 50 euro ma con le magliette partecipanti incluse quindi sono 10 euro a testa non è male 4 ore in sessione bello bello molto figo molto figo anche questo bravi 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 ragazzi chi sono loro le rune del lupo grandi rune del lupo guardate che belle l'associazione italiana sono fighissime queste robe qua GDR al buio al pavia vabbè la taverna del gentilorco questo qua è mercoledì dal buon Sam ventifacce giovedì scusatevi 10 appuntamento 8 stagione il GDR al buio si può cionare durante l'evento bellissimo per il 19.30 quindi ma è colpo grosso mamma mia o un Bertone Smyla nazionale che faceva vedere le poppe poi GDR Night con Sine Requie dove il Goblin Caffè è sempre a Pisa gioco dal buio roleplay in Mantova fine maggio GDR al buio con Lescio roleplay in Mantova giovedì 30 maggio c'è un botto di roba ragazzi c'è un sacco di eventi GDR poi uh play muse a Trento ecco chi mi chiedeva in Trentino o in Veneto eccolo qua qua c'è il play muse di Volkan qui c'è Andrea di Mezzo sicuro nove ore dura l'evento più più grazie Marco grazie per l'assumo grazie a Gianni Affedini quattro sessioni minchia un botto di sessioni due ore l'una prima vennero Alice is missing bellissimo il biglietto l'ingresso dell'ingresso del muse ma no dovevi fermarmi guarda dove spari cioè io vado così cioè è la mia associazione ma non mi interessa love joy ergo devi stare in mezzo a persone figure se ti piace stare in mezzo persone tu sei un orso veramente tutti i giochi piacciono me se a te piacciono le robe indie nel cazzo stranissime Marco non le dubitavo poi quindi chi mi chiedeva prima di Trento non mi ricordo Tommy se non sbaglio forse mi chiedeva Trentino ecco 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 vedi Tommy poi copia di Le Cronache della Fonte 2 Mimir Bar cioè vedete quanta roba c'è e le persone non lo sanno questo i bardi sono proprio a far vivere le storie più straordinarie tra fiumi di birra e del Mimir Bar 4 ore vi andate nei giochi di ruolo un nuovo ciclo di avventure viene inaugurato le radici della Fonte del Sapere il Mimir Bar i bardi di ruolatori seriali hanno pronto 5 storie carpite da altrettanti mondi preparazione della serata vi aspetto gustosi aperitivi sfizioserie bevande esclusiva a tema per poi partire con l'avventura alle 20.45 consumazione di 5 euro ci sta una birretta o una cocco un panino di Brancalonia Macchiato Monsters in Erequid e Wicked Forever King Kongers fighissimo fighissimo questo qua quando venerdì 31 maggio terza giornata di gioco di ruolo della HSD Guild del Xunt Dracones al povero regno di Centallo dove si gioca? Centallo non so dove sia Centallo ragazzi sono 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 ignorante mi dispiace però c'è anche tavoli per Centallo quindi c'è anche qua cioè se venendo un pochettino tutta l'Italia non c'è molta Italia meridionale poi c'è Taverna del Dragonero serata giochi da tavolo vediamo se c'è anche giochi di ruolo magari c'è anche GDR GDR GDT no questo qua giochi da tavolo vabbè chi se ne frega siamo in modo per giocare c'è spenta la luce scusate perché l'hanno messa in carica fermi ecco l'hanno messa in carica come sempre la luce strano poi domani c'è un altro un altro evento allora vediamo che cosa è questo evento dove pesco se è GDR o o gioco dal vivo no GDR GDR anche un altro evento poi vediamo un po' mercoledice già mi piace già mi piace mercoledice Everog vediamo che cos'è a Camerino a Camerino a Camerino a Camerino le rune del lupo demoni giochi di ruolo questa domenica dalle 10 ma c'è un botto di roba Dungeons & Dragons Quinta E Green Hawks QuietEar Richiamo Nick Tullo Fallout Vampiri la Masquerade da sabato a domenica un botto di roba San Gioco San Giovanni Lupatoto o Lupatoto non so come si dica c'è un sacco di roba bellissimo poi abbiamo visto il torneo di Quinta E al Volcan Alto Trento qui dei prima Tommy quando è dall'8 maggio al 2 giugno quindi c'è quanto vuoi 35 ore la squadra per attestati 4 ore di gioco 20 minuti di lettura e 10 minuti di pausa minchia proprio braam bello incazzato bellissima sta cosa qua in fuga dal fato club dado giallo grande il club del dado giallo il dado giallo è biella se non sbaglio non vorrei dire cazzate mi sembra biella comunque c'è guardate quanto roba fa domani il dado giallo c'ha anche unico anello night of the round academy dove si gioca gundam serata giochi da tavolo cioè c'è un sacco c'è un sacco di roba figa avete visto even bright italia gdr cioè non è che ci voglia molto ora la palusa l'abbiamo visto prima vediamo però c'è anche altra roba ma ragazzi ma sto club dado giallo fate vedere se il dado giallo il club dado giallo è quello di biella io mi ricordo fosse a biella club dado giallo biella sì biella me lo ricordavo grandi grandissimi quindi c'è last embrace segreti sepolti yokai antra society giocata yokai antra society è molto molto divertente ma c'è un botto di roba manto va a giugno la gilda del del reone rosso al marina cosplay and games a marina di ravenna questo venerdì quindi anche ravenna loro sono i grandi eh gilda del leone rosso ragazzi associazione incredibile stiamo guardando fuoco tutti gli eventi gdr che ci sono in giro per l'italia semplicemente andando su even bright quindi senza andare a conoscere il posto scrivendo gdr italia tutto quello che viene che viene che viene fuori no ma neanche in estate c'è da qua a fine della prossima settimana perché c'è veramente un botto di roba questo perché molte persone mi hanno chiesto fa cazzo peccato per giocare di ruolo così a provare un sacco di demo devo aspettare lucca o la prossima play e mi sto reso conto che molte persone non conoscono che in realtà ci sono decine di eventi sul territorio dedicati al gdr full giornate intere gratuiti o a dei prezzi ridicoli dove magari ti chiedono di prendere una birra o qualcosa del genere no ma c'è il kraken ragazzi poi vediamo il kraken il kraken è una delle associazioni più belle che ci sia in italia ve lo dico proprio sarà che lovecraft hudini dopo vediamo anche le cose del kraken continuiamo intanto qua allora abbiamo detto marina di ravenna venerdì sabato e domenica c'è tre giorni dove si può giocare come devo pagare qualcosa non la pronotazione è gratuita quindi c'è top non stiamo a vedere nel dettaglio tutti vi andate a lurcarveli anche voi dopo cercando quello che c'è su su eventbrite poi roleplay night mastering al titan mercoledì qua a milano cosa si porta invece dalle 8 alle 11 i giochi ho preparato per la serata il gioco più vi aggrada consumazione minima 7 euro va benissimo poi sempre il dado giallo broken compass uh bellissimo dal mayday è un gioco che ha scritto la rossana e su qua viene fatto in casa dei giochi sabato sabato 15 una giornata di gioco gratuito indicata tra appassionati e appassionati dei bailov cinesi top ragazzi c'è qui devo dalle 10 alle 18 creazione di personaggi prima fase di gioco pranzo e spazzotolo seconda fase di gioco a milano poi la battagliera non so cosa sia quindi guardiamo assieme nuovo one shot e campagna di generi episodi viale palmanova 56 milano giochi di ruolo in battagliera 5 ore dalle 18 alle 23 quindi misterio del grande nulla agricolo orbital blues la mia vita col padrone agon bellissimo c'è che figata poi accademia delle sunny lecture non so se qua c'entra qualcosa è a napoli però vediamo se c'entra qualcosa con no la squadra non c'entra molto con il GDR purtroppo qua Piacenza invece notte Europa dei ricercatori notte ricercatori GDR giochiamo la ricerca che bello cos'è questa cosa qua si stessi in gioco di ruolo a tema sostenibilità e cambiamento climatic in occasione della notte europea dei ricercatori che meraviglia quagiorno è 27 settembre sa che qua ci andrò wow bellissimo poi multitavolo GDR di household l'ultimo evento che c'è qua goblin caffè lunedì 15 no lunedì 15 aprile fine vendita ha già finito si dice che ha messo la fine tar basta allora queste sono le cose cercando su Eventbrite ok senza cercare su facebook senza cercare su Eventbrite è un po' la manna di tutto no poi ci sono vediamo quello che mi avevano girato invece prima di di eh del Kraken il Kraken ragazzi è un'associazione bellissima bellissima vediamo che cosa fanno aspetta eh dov'è che era l'indirizzo qua allora sesto Fiorentino vediamo che dove giochiamo Ola Eventi Kraken il prossimo è l'undici siamo a maggio settimana prossima no andiamo a giugno ma cazzo faccio vedere il giugno non mi fa vedere il giugno Dio ah si basta far così tutto nero ok al al 15 giugno alla Pendragon quinta edizione a Roma eh via degli orti Trastevere 6 Roma due giorni per i sessioni è vero c'è la Pendragon anche la Pendragon la Pendragon cacchio mi sono dimenticato allora adesso vediamo un po' le future eh vediamo innanzitutto vediamo un secondo sul telegram degli Adventurers un secondo eh anzi facciamo che metta schermintiero me lo vedo da qua così vi passo anche i vari link allora Adventurers Adventurers Milano vediamo quali sono i prossimi eventi neanche là dentro si fa un sacco di roba cioè guardate ad esempio questo weekend prossimi eventi allora ve li metto qua allora i prossimi eventi c'è 8-9 giugno festival del gioco di ruolo al Best Movie Comics and Games a Milano in via Tortona 27 al Super Studio Plus 8-9 giugno è questo no è tra due weekend 15 giugno Don't Night Day giornate di gioco gratuite per tutti gli appassionati e appassionati del Boy Love Casa dei Giochi 22 giugno World Show preparare indietro di quinta edizione Casa dei Giochi Santo Guzzone in più tutti i weekend loro fanno giocare quindi c'è Spocon Anime Night D&D Quintae da manuale Adventure Race Camp arrivate al campo prossimi eventi quindi c'è l'assistamento con cattura alla bandiera ecco Daniel Megliore campagna sci-fi un sacco di cose questo qua c'è il link ok me lo metto qua e vi metto anche se volete iscrivervi l'ho copiato o no sì qua se volete iscrivervi al canale Telegram dell'Adventures di Milano questo per questo weekend poi Pendragon iniziamo un po' con gli eventi Pendragon con la C eccolo qua Welcome to Pendragon 2024 20 tavoli giochi di ruolo oltre 60 sessioni 4 tavoli di wargame 30 più master Drago e la penna giochi di ruolo di Pendragon la leggenda di Utre l'altro anche al gioco di ruolo omonimo logo il nome di questa nostra convention dedicata al gioco un omaggio a tutto ciò che è da sempre rappresenta ciò che siamo e cosa vogliamo condividere da qui in poi ci siete voi associazioni che vi parteciperanno Lockendil Six Bullet System Questing Role la baccheria spazio culturale riserva al tuo posto vediamo che giochi ci sono non me lo fa ancora riservare non le avranno ancora caricate probabilmente comunque segnatevi anche la Pendragon assolutamente che puoi Andre allora se posso proprio citare ad un evento che stiamo organizzando con la mia associazione il 15 e 16 giugno c'è la prima edizione dell'AkibaCon ad Alessandria con GDR giochi da tavola e costo è in piscina fighissimo se hai un link mettilo che lo guardiamo assieme per favore Andre poi altri eventi incredibili se voglio anche che vi dica che cos'è vero la festa dell'unicorno si può scrivere anche a Camelot festa dell'unicorno ragazzi è incredibile lo sapete già è divertentissimo si può fare un sacco di bordello è proprio figo 26 27 28 giugno 2004 cioè è è molto è nato come festa del dei larper fondamentalmente ma adesso c'è un boato di GDR un boato Marta ci sei ancora tra parentesi chiedo a Marta se c'è in chat perché lei siccome la conosce bene eccolo qua hai visto che ti ho evocato eccolo ti ho evocato Pensa unicorno ragazzi è un'istituzione è è a Vinci dove è nato Leonardo da Vinci tutta la città è creata come se fosse una specie di accampamento LARP io ci sono stato svariate volte 3-4 volte è proprio bello una volta ci siamo andati Andrea Lucca abbiamo fatto il terribile errore di prendere un agriturismo dove dormire a 6 km di distanza ve lo faremo mai più piuttosto tenda di ferro tenda di ferro ovvero dormire in macchina tutta la vita cioè proprio bellissimo bellissimo ci sono se siete l'ARP è fantastico se amate il GDR se amate la cultura nerdica si mangia da Dio mangia due più buoni panini con la porchetta da mia vita ci sono un sacco di birrette è veramente bello è un bel weekend io ci andrò quest'anno fai te da parentesi Marta fammi sapere se c'è qualche hotel convenzionato qualcosa che prenota una doppia anzi aspetta che vado subito a prenotare una doppia booking dove vuoi andare vinci vi faccio venerdì sabato da luglio e da venerdì no? dal 26 si facciamo dal 26 al 28 prenotiamo per due persone vai no no Venezia perché Venezia? vinci vedi vedi vinci ci sarà un cazzo ormai ovviamente manca un mese hotel da 6,9 km al centro col cazzo allora questo costerà un botto 264 euro no perché scusa sono giusto qua è giusto? dove vinci? vinci è giusto c'era uno qua libero che culo 264 euro è il delibero ma subito mia la prendo al volo al volo ultra neo locanda ricollina Marta è in centro? Marta non penso devo vedere per bene come non pensi vedere per bene? Marta scusami vedi mappa qua vinci io nel dubbio la prenoto tanto è una camera sola c'è cancellazione gratuita sti cazzi mi porto anche Olivia se sono con Olivia guarda ci sfondiamo io Olivia prenota ora prenota vabbè intanto prenoto ma ragazzi c'è una cancellazione gratuita ok perfetto l'indirizzo è sbagliato non è giusto l'idgames è giusto sto prenotando per me viaggi per affari no ok cancellazione gratuita vista giardino il tuo orario d'arrivo non lo so vai avanti ultimi dati carta di credito paga il giorno ovviamente pago il giorno 19 luglio perfetto ok prenota con impegno di pagare perfetto dobbiamo mettere il codice conferma metto anche il cellulare mi è arrivato ok ok conferma è in pieno centro vicino a casa dei miei topperia 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 prenotato ma che 250 euro sono due notti per due persone quindi vuol dire che sono sono 100 sono 240 sono 120 euro a notte sono 60 euro a notte a testa non è un cazzo per vinci è come lucca c'è nel senso un festival importantissimo italiano perfetto prenotato Marta che top ragazzi che top si Marta ma la ricordo sono stato molte volte non so se ricordi a festa e nella via perfetto sappiate che ho un posto letto in camera quindi se qualcuno vuole venire con me andiamo qua a far bordello perché si va a far bordello proprio alla festa d'unicorno bello prenotare così no? proprio ma se vengo ci facciamo le coccole tu paghi vieni e paghi speri eh di vendermi il tuo corpo no 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 poi quindi vinci festa d'unicorno ragazzi perché ve la faccio vedere bene perché secondo me voi non sapete quanto è figo allora vediamo vediamo il programma della festa d'unicorno allora c'è la mappa oh sì perfetto oola così vi faccio godere ah ma c'è oh vabbè c'è Giorgi sono tutti la festa d'unicorno ragazzi questa è vinci ok qua è dove c'è il bordello maximum dove si fa bordello qua c'è proprio la piazza del castello qua si gioca di ruolo come dei pazzi si gioca di ruolo anche quest'anno no? sì c'è un caldo devastante ma c'è la birretta ghiacciata c'è la città dei cavalieri c'è il villaggio degli gnomi per i bimbi è bellissimo il villaggio degli gnomi è bellissimo la valle del vapore tutto steam cam la baia dei pirati è proprio fatto ragazzi proprio per 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 l'arper poi c'è sempre il palco dove suona anche Giorgio c'è tutta la parte di dottor Q che è un pazzisco qua ragazzi vedete dove c'è questa testa di gundam siamo una bestemmia ma in realtà è una testa di gundam qua allora qua io ho fatto uno dei giochi più fighi della mia vita fondamentalmente è un wargame dove usi gupla c'è quest'anno non c'è Giorgio ma Cristina io voglio solo ricordarti Marta che con Pedro l'ultima volta che siamo venuti sono stato nel nel backstage con Cristina D'Avena e Cristina D'Avena mi ha abbracciato e mi ha fatto un video dove mi dice Nicola puffare duro sempre e per me questo qua è proprio uno dei top dell'apoteoso della mia carriera dovrei anche avercelo forse a qualche parola però non mi siamo in caso di mostrarlo adesso c'è bordello c'è bordello nel senso è super bordello è fighissimo comunque maledetti se non conoscete la festa di unicono è 22-23 luglio 2023 c'è la quella dell'anno scorso aggiorniamola sta cazzo di mappa però è molto molto figo molto figo veramente è stra divertente ragazzi ragazzi è proprio è divertentissimo sicuramente ci sarà Pedro la Sara figurate se se la perdono loro quindi saremo lì a fare casino figa il bordello oh 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 ho già a fare bordello comunque festa di unicorno altra cosa fighissima che c'è in Italia ho già fatto disastri è la Fabcon un mese dopo allora chiunque mi conosca sa quanto per me è Emma sei arrivato vacca boia Emma è il marito di Marta è l'organizzatore a festa dell'unicorno infatti Emma ho trovato tra benzi in diretta adesso uno no la macchina fa caldo aspettate devo accendere l'aria condizionata a manetta a manetta l'aria condizionata che fa caldissimo vai vai spara sorella a manetta così tutti i suoi scaldi pensiamo bastasse piena la finestra in realtà no adesso ho aperto l'aria condizionata a manetta ma ecco pane vabbè facciamo facciamo panel volentieri facciamo pane alla manetta e ho trovato in centro vicino attaccato a casa dei genitori della Marta mi ha detto Marta quindi fighissimo ha un prezzo anche umano perché sono 200 240 260 per due notti quindi una cosa più che umana sì veramente ma adesso facendolo proprio in live quindi mi accoltereranno nel sonno questi cazzi i genitori di Marta mi accoltereranno nel sonno probabilmente oh tu che giochi questi giochi strani bellissimo stavamo parlando adesso invece della Fabcon ragazzi Fabcon per me è per la Fabcon siamo io Giorgio e Albin un bilocale con bagno cieco ma di fianco la Fabcon io invece alla Fabcon ho una camera della Madonna hotel lusso con letto king size e vasca da bagno dentro la camera d'hotel scusa vasca da bagno e jacuzzi dentro l'hotel cioè proprio voglio proprio godermela a cannone l'appartamento è bello molto 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 contento molto contento ovviamente Albin sul divano letto con Giorgia chiaramente tu da solo di là e invece Giorgia e Albin assieme allora Fabcon Fabcon ragazzi è un'istituzione c'è da 32 anni molto molto bella parlo col cuore un po' come parlo della festa dell'unicorno ma la smettete di parlare di fiere convention ma se può andare avanti e discutere di altre cose non c'è il tuo parere personale oggi ho appena trovato in diretta camera per la festa dell'unicorno in centro totale attaccato i genitori di Marta dove fai trasloco le cose si ma è per luglio lì attaccato 240 euro due notti vedi con me cosa? andiamo in diretta la festa dell'unicorno no dai no unicorno penso che potrei morire si infatti si fa un cadazzo e basta no 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 c'è un problema stai con me letto matrimoniale il posto coccule ma che bello senza l'aria condizionata sounds like a plan come dicono gli anglosassoni perché saluterò per i coglioni? così perché continua a parlare di fiere di convention no ma Marco posso farti vedere una cosa molto bella? si può dire coglioni allora si si può dire allora ho fatto per far vedere alle persone che magari non capiscono come trovare eventi GDR ho scritto GDR Italy su Eventbrite è venuta fuori una porco demonio di roba di 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 ma tantissime robe bellissime bellissime vabbè comunque c'era un sacco di roba cioè veramente tantissimi eventi due pagine di eventi fabbrica del vapore della squadra Urban Garden Party sì ma non c'è un cazzo quello che stiamo vedendo noi ok torniamo a noi va bene cosa volete dire? fabcon ho parlato della fessa unicorno ho parlato della pendracon quella giù a Roma è il tema di questo need play che quando eravamo al play quando eravamo al play molte persone neofite che sono venute a provare i giochi in nostri tavoli hanno detto cavolo che peccato per giocare di nuovo di ruolo con un sacco di persone che non conosco dovrò aspettare o Luca o la play allora sto facendo vedere come in realtà ci sono tantissime è un po' il nostro progetto camera esatto esattamente e ci sono a Civitanova Marche se non sbaglio fanno una con GDR nello stabilimento baldeare direi Civitanova Marche Caput Bumbi cioè bellissimo infatti un sacco di cose molto molto fighe ciao vi saluto ciao torniamo a noi ho sentito al telefono fino adesso con Nexi sì ho sentito ma abbiamo risolto con la roba della cassa o no? con quel che paghiamo ma gli hai detto oh ma paghiamo un botto di soldi tutti i mesi vabbè adesso non fanno in live vabbè ok ecco sto tornando mi sono perso la cosa della Famcon eccoci qua allora come dicevo ci sono ovviamente durante tutti questi anni di gioco di ruolo ho avuto modo di conoscere centinaia di persone e tra queste centinaia di persone molte che avevano facevano parte di associazioni avevano presidenti di associazioni organizzatori di eventi tra cui ovviamente ci sono la Marta c'è Emma ci sono gli amici della Famcon no? cioè appunto c'è c'è Gabriella Harry e via dicendo e persone che diventano più di conoscenti del mondo nel gioco di ruolo cioè diventano persone dove io mi faccio volentieri 4-5 ore di macchina anche per mangiarci una cosa assieme il gioco di ruolo poi è un un aggregante no? però c'è il fatto di andare a un evento fatto da amici ma fatto col cuore io ovviamente Festa Unicorno è proprio è una non è neanche è una festa non è neanche una convention è proprio una festa io vi consiglio se qualcuno di voi è anche minimamente inciucciato con l'ARP andateci è incredibile vi faccio un esempio a me l'ARP non piace nel senso per fortuna non piace perché se no non avrei proprio più una vita e nonostante questo amo sempre andare alla Festa Unicorno è una cosa proprio che amo mi piace proprio andare là e godermelo nonostante ci sia un caldo ma buino infatti divento più grande azionista dei chioschi di birra che ci sono lì stesso discorso con la Fabcon la Fabcon è fatta giù a Fabriano è fatta all'interno di una rocca migliaio di persone non pensate ci sia quanta gente ma si gioca dalle 10 del mattino alle 4 di notte io ogni volta che vado mi faccio il programma letteralmente il programma delle sessioni di GDR che cosa fare in ogni momento del giorno è meraviglioso non ci sono tante parole per descriverlo meraviglioso incredibile spettacolare magnifico e sessioni di GDR a non finire torneo del richiamo di Cthulhu che inizia alle 10 di sera finisce alle 7 del mattino si magna da Dio si beve da Dio amici incredibili si fanno tantissime amicizie vengono da tutta Italia da Venezia a Napoli cioè bellissimo Cri vedrai che figo che è poi si sta tutti quanti assieme io mi ricordo che due anni fa mi ero lamentato per il costo delle birrette perché facevamo pagare le moretti da 66 ghiacciate 1,50 euro ho detto ragazzi però scusatemi siete un'associazione senza scopo di lucro fatevi due soldini con con le birre almeno ci mettete da 2 euro 3 euro quest'anno scorso avevamo messo a 2,50 euro per farvi capire si mangia benissimo e hanno fatto ragazzi ecco una figata per farvi capire la bellezza di questi eventi hanno fatto una convenzione con una paninoteca che portava tutti questi panini a tema nerd io mi ricordo il Mordor vedrai se c'è Batta ancora anche Batta si ricorderà del Mordor sicuramente ed era una roba da 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 star male da star male ragazzi da quanto erano buoni quei panini mi ricordo che pagavo si pagava 10 euro 12 euro avevi panino dolce e birra non riuscivo a finire i panini c'è delle robe per me è l'elementare del fuoco che buono era che buoni erano quei panini Batta te lo ricordi so che è una cazzata perché comunque una roba da star male mi ricordo per farvi capire il livello di figaggine di queste convention bravissimo bravissimo pollel pork fotoni col Mordor vedi che ci sono persone cazzo che capivano ah vabbè mamma fanculo adesso dopo ho detto dopo chi era avevo una sessione di Blade Runner con la solo che Noemi avevamo fatto una sessione molto pesa di Mothership ed era un po' scagazzata e non voleva non voleva giocare a Blade Runner allora vi faccio non so problemi siamo andati a mangiare fuori siamo tornati indietro che erano tipo le nove e mezza dieci e c'erano c'era Tao Leo e Skip e Kit scusatemi di del del Kraken che erano sotto e stavano venendo una birra dicendo che anche loro non avevano non avevano pronotato nulla perché quella sera non sapevano anche cosa giocare io vado dietro con me ogni volta che vado alla alla FabCon ma in generale quando vado alle convention o alle fiere da giocatore da turista ho sempre una cartellina con dentro un po' di pregen porto sempre TTG The Breach Osa e tutti i giochi che conosco a memoria di cui non mi servono assolutamente neanche regolamento perché sono le stat dei mostri a memoria abbiamo fatto una sessione di TTG che è iniziata alle dieci e mezza e finita alle due e mezza di notte incredibile e mi ricordo che c'era Batte invece che stava facendo ogni tanto capita una sessione che non si stava trovando molto bene che trovava ogni cazzo di scusa per venire di sotto e sperava che gli dicessi ma gioca con noi ma io non avevo capito che voleva che io lo tirassi in mezzo e troviamo noi sotto che avevamo tutta sta saletta per noi bordella allucinante e abbiamo giocato il DDDD di Baldo con TTG ed è stata una sessione pazzesca sapete quelle sessioni proprio che vi rimangono dentro per farvi capire il livello di bellezza vi siamo seduti e ho improvvisato una sessione di quattro ore cioè non due orette quattro ore e non volevamo smetterla di ruolare siamo andati a dormire alle nove colazione alle dieci stavano già giocando di nuovo cioè la Fabcon è così è proprio cioè volendo è aperto puoi giocare anche di notte noi abbiamo ci capitato cos'era? due anni fa abbiamo iniziato a giocare a... no l'anno scorso l'anno scorso se senti che cosa chiusa la sessione alle due di notte io avevo con me Icarus e ho detto ma ragazzi ma io c'ho qua dietro Icarus voi volete andare a dormire? ma no ragazzi siamo arrivati oggi dai ruoliamo tanto male che vada dormiamo quattro ore abbiamo intavolato Icarus abbiamo giocato dalle due le cinque del mattino siamo andati a dormire svegli alle nove e mezza rincoglioriti duri dieci doiamo a ruolare fino alle due del giorno dopo è così cioè se vi piace il GDR Fabcon è tantissima roba tantissima tanta 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 roba anche qua vi metto il link e ovviamente ovviamente se venite alla Fabcom ve lo dico già adesso iscrivetevi instant al torneo del richiamo di Cthulhu cioè iscrivetevi instant io penso nel senso alla Fabcom penso di giocare non sto scherzando tra le 12 e le 16 ore al giorno cioè proprio gli chiedo tutto tutto quello che gli chiede il mio corpo al GDR gli chiedo tutto poi di solito la Fabcon ogni volta è dopo la è dopo la la Gencon e quest'anno purtroppo mi sa che non riuscirò ad andare alla Gencon e sono molto dispiaciuto di questo mi giro parecchi coglioni però vabbè vediamo mai dire mai e ogni volta inauguro il portadadi della Gencon e il set di dadi della Gencon è una piccola usanza che faccio lì tutte le volte mi piace mi piace un sacco fare questa cosa qua mi diverto poi li amo poi ci sono con Gabri con la Harry ma con tutti quanti ma ragazzi ma sono no no ma è incredibile c'è venite venite alla Fabcon che è una figata detto ciò c'è un'altra fiera in Italia che mi ha stupito molto un'altra convention non fiera queste qua non sono fiera sono convention che è il Top Play allora il Top Play era stato chiamato dal Vincio di Fortuna Dado due anni fa giù di lì anzi prima era stato con Mini 2019 forse mi era piaciuto molto a Torino al parco della tesoreria o della tesoriera cazzo sbaglio sempre o è tesoreria o tesoriera mi è piaciuto talmente tanto che poi mi avevano sentito Vincenzo e mi ha detto se volevo come come di Game se volevamo essere tesoreria ok se volevo essere sponsor mi ha detto di sì una bomba ragazzi una bomba atomica ve lo faccio vedere qua allora festa del gioco parto dalla tesoreria a Torino 7-8 settembre sabato e domenica un quantitativo di 200 tavoli di giochi di ruolo 200 tavoli cioè bellissimo veramente veramente bellissimo una roba incredibile no no aspetta allora vatta io ti ammazzo Federico ti giuro che ti ammazzo si chiama fiere che ci sono da qua a settembre ok ovvio che anche il Salsolutix è stata una bomba atomica ma purtroppo non è quest'anno dopo parleremo del Salsolutix che la sfiga vera è che il Salsolutix purtroppo è 1-2 settimane prima di Lucca quest'anno per una questione comunale e quindi mi sa che io me lo balzerò a pie pari purtroppo al top play l'anno scorso ho organizzato una giocata a re morti in terra in mezzo al parco perché avevano perché avevamo finito i tavoli fate voi ragazzi c'è il senso top play grandissima roba poi ho scoperto l'anno scorso per caso una birreria paninoteca vicino al salso vicino sia al salso vicino al top play buonissima buonissima anche lì ci sono tutti i food truck la fiera che ci dicevo è l'Akiba con ok vediamo adesso anche l'Akiba con anche questo qua ragazzi e ragazzi incredibile gratuito si può andate a dare i soldi al crowdfunding veramente bellissimo l'anno scorso al top play ho scoperto rusalca che cazzo è rusalca Cree tu sei strana forte che cazzo è rusalca ti giuro mai sentito non so se è un gioco di ruolo una vodka un amante ma che cazzo è o po allora non so allora non so se ho più paura di Cree o di Squara che mi dicono devi giocarlo tutti e tre per me rusalca il GDR sulle rusalca che si trovano in un lago ma cosa sono le rusalca rusalca la escort che cavalca vai a cagare Ergut ma io non so noi coglioni ovioni o tutti andiamo a googolare assieme sto cazzo di rusalca 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 è un'opera in tre atti con musica di Anthony Zvorak e libretto in ceo di Jaroslav Knafi rusalca RPG va andiamo così c'è anche l'edizione italiana di Space Runner Donne morte annegate dal folcore slavo good cazzo sono sempre le mie nemiche preferite in The Witcher boh mi sta caricando quando smetterà di caricare vedremo questo rusalca non vai ciò mi sa ok squaro squaro devi stare zitto hai capito devi stare zitto perché la foto che mi ha mandato Chris è molto grave zitto vergognati vergognati squaro cattivo a squadra Giorgio ok me l'ha mandato su drive-thru dove me l'ha mandato su Telegram si così lo vedo con gli altri me l'ha mandato Chris su Telegram adesso ah no no sa bene sa bene Chris si guarda sa bene sa bene Chris perché è colpa sua è colpa sua se si è diventato così quei giochi strani in testa 6 ore di creazione di schede di personaggi 3.5 e muori al primo ink ecco cosa devi fare come per la grafica è meravigliosa cazzo preview vediamola assieme nick vedige ok on the night of the full moon the rusalka dance by the edge of their enchanted pool on these nights people from the village come to ask their aid the rusalka possesses many strange magical talents but their gifts always come with a prize the rusalka are the spirits of drowned woman the rusalka remember holy fragments of the life they once lived with time they cannot revel the mysteries of who they once were roba tranquillo proprio per giocare una roba allegria rusalka is a story telling game for one six players each player will roleplay as one of the rusalka you will also take turns portraying the mortals who come to the pool to request help for the rusalka playing the game should take two four hours you will also need some paper and pencils to begin playing every player selects a dem deck each dem deck has one identifier card with name and appearance four petitioner cards and eight answer cards no bisogna stampare troppe carte mi sono già rotto i coglioni ma te lo dico proprio dal cuore troppa roba da stampare tutto con le carte ma va affanculo va no 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 crime esatto me lo fai provare tu te lo porti già stampato perché mi sta già facendo bestemmiare sta roba qua bello bello sarebbe qua secondo me se c'è ancora c'è ancora marco ragionier filini ci sei marco qua proprio si impazzisce anche tu doctor solo tu filo puoi conoscersi i giochi del cazzo dunque no no ma c'è c'è allora basta che non sia tipo alice smissing che se no sto male bellissima esperienza ludica ma sto male vale invece sapete che ultimamente c'ho una voglia bestiale di giocare visto guarda guarda che arriva già arriva già in gamba tesa marco lo proviamo insieme non conosco sapevo che testa è stronzata e qua ti mandano fuori melone figuriamoci ma ovvio che un gioco così li faceva impazzire marco c'era era chiaro a parte che odore di indie ci sono dei grandi prodotti indie eh zi non è che odore di indie è odore di devo stamparmi delle carte che mi fa giare i coglioni sono dei bellissimi giochi di ruolo su carte ok sì 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 le rusalca non cioè non me l'hanno spiegata madonna che freddo del cazzo che fa fa freddissimo ecco perché ho sempre raffreddore comunque stavamo parlando di altro non è una puntata dedicata ai giochi indie del cazzo è una puntata dedicata alle fiere che ci sono ma affanculo voi mi fate prendere bene con i giochi che non conosco figuriamoci eravamo alto play quindi anche il tuo play mettetevi in agenda adesso però scusatevi voglio vedere sto Akiba Con che povero cazzo c'è Andrea l'ha postato un sacco di volte non l'ho cagato di pezza Akiba Con 15 16 giugno ingresso gratuito bravi fate marketing scritto in grosso così ingresso gratuito dalle 10 a mezzanotte a viale della valletta sono delle chiappe allora a parte che ho fatto molto meglio di siti di fiere molto più bella zonate gioco area gdr la prima fiamma quello che interessa a noi allora venite a ripresionare coraggiosi cavalieri intreppi di avventurieri pirati spaziali supereroi o qualsiasi personaggio possa partorire la vostra fantasia questa è l'area gdr di Akiba Con presso la quale potete provare tantissimi gdr sotto la guida esperta dei master l'associazione la prima fiamma prima fiamma è un grande l'associazione gdr preposti dai master tales of kilmarnock penso che sia un'ambientazione loro fabula ultima the witcher cyberpunk seven sea warhammer vrate glory vrate glory alien scene requie harry potter harry potter limite sono nella vostra fantasia quindi anche qua ragazzi 15 16 se siete di zona Alessandria gratis anche live streaming fatto molto bene il suo sito bravi ragazzi le cose ci sono conferenze panel coming soon ospiti content creators vediamo chi c'è allora c'è Edoardo c'è Jessica c'è Zelda fan oh Mike Arcade ragazzi c'è Mike spacca i culi con il suo Arcade è grande numero uno totale Camisara una bella vista cosplayer Morgolit non lo conosco Morgolit non si incendono Regia la famiglia nerd Lorenzo Fossati Giovanni Mongini Marco Poletti Daniel Serru adesso un po' di gente adesso per essere una cosa gratuita è stata fatta molto bene madonna mia quanto mi spacca Pietro Pietro Baldi ragazzi numero uno totale Matteo Grof Mosè Singer numero uno doppiaggio con qualsiasi persona è partito di anime deve conoscerlo per forza il Cino Cata poi disegnatori c'è disegnatori c'è un botto di gente bravi bravi ragazzi bravi 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 cosplayer scirogao un momento fermi tutti non è scirogame scirogame signore signore il 15 e 16 non può essere scirogame scirogame è Andrea Andrea scirogame è scirogame scirogame cambia tutto vado un attimo sul profilo di scirogame se non sapete chi è scirogame sa chiudete la live immediatamente e vergognatevi minchia scirogame scirogame dalla Russia si avviene non ho parole no 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 parole boh non so come ve la siete accappata ma toccherà andare a la camera e niente e niente una roba allucinante complimenti ragazzi chiamare scirogame chiamare scirogame boh siete dei draghi lo dico tranquillamente siete proprio dei draghi sì ho capito ma scirogame Andre cioè senso scirogame è una delle cosplayer più quotate al mondo cioè boh bravi 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 e bravi top topperia comunque che sono mi chiede sono già le 7-10 allora facciamo adesso un po' di chiacchiere finale poi devo fare una pipì devastante e che altri eventi mi son balzato no non Ergut ma perché riesci sempre a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato non c'entra un cazzo il fatto di signorine il fatto che scirogame è un artista della madonna è una cosplayer incredibile altra parentesi filo io ho visto che mi hai scritto su shonen force mi hai scritto anche tu mentre ero al play non ho visto un cazzo chiaramente ma che io seguo pochissimo il cosplay here però c'è scirogame e scirogame perché so dove dormire ad Alessandria per questo allora scusatemi chi magari qua è un pochino più schillato e perché come ha fatto per esempio Andrea che mi ha che mi ha suggerito Andre Fortichei che mi ha suggerito di 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 Akiba con c'è qualcosa mi sono balzato qualcosa perché appunto non lo so non lo so neanch'io prima scrivere GDR estate Italia bevuto fuori una figata senza senso ragazzi Summer Cup dedicato al GDR sul lago d'Orta estate 2024 dal 28 luglio i genitori di ruolo per bimbi ragazzi e ragazze da 8 e 14 anni vabbè che meraviglia ragazzi ma che meraviglia ma stiamo scherzando ma è bellissima sta cosa cioè che meraviglia bravi ragazzi bravissimi genitori di ruolo ragazzi dell'associazione senza senso quanto è bella bravi 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 che figata sta roba camp GDR per ragazzi per bimbi e ragazzi bellissimo quanto quanto cazzo è bello il nostro mondo e cosa mi dicevi Cree Japan di ruolo Japan di ruolo casa dei questa è entrata in bocca casa dei giochi GDR dei Japan di ruolo no su quel 17 del 2000 2023 però vediamo GDR dei 2024 GDR 2024 casa dei giochi non lo trovo Japan di ruolo non lo vedo sinceramente lo sai Cree se il 17 tra due settimare niente non c'è perché ti è arrivato il messaggio nel canale Telegram della casa dei giochi e quello dell'adventure resti dedicato al GDR ve l'ho girato prima prova a vedere prova a vedere prova a vedere Cree se trovi qualcosa si si sto cercando perfetto se a qualcun altro viene in mente qualcosa fatemelo sapere adesso così su due piedi non mi viene in mente nulla abbiamo visto tipo 20 e 20 20 e 20 dove si può giocare tanto di ruolo cioè molteplici sessioni al giorno il che è una cosa meravigliosa quindi c'è un sacco comunque visto mentre cercate mentre Cree cerca altre cose vi ricordo che mercoledì esce inizia la campagna di Dragonbane siamo io Batta Marco ve l'ho ragione al finire e Francesco Rizzo che è il traduttore di Dragonbane a giocare ci vorrebbe una bacheca unica nazionale progetto Camelot scimiotto di pietra esattamente quello che stiamo facendo si chiama progetto Camelot e quindi tu andrai sul sito di Need Games e vedrai tutte le cose che ci sono e la newsletter dedicata esattamente quella esattamente quello scimiotto di pietra lo stiamo facendo noi solo che come puoi immaginare è un impegno mica da ridere poi prendendo noi parte Dragonbane il re sommerso io alla fine non gioco più un nano ma gioco un magliardo Dolomiti Fantasy grande nicio grande nicio cerchiamo Dolomiti Fantasy vedete c'è vedete altri giocatori di ruolo che vi danno le loro c'è il gioca osta cazzo il gioca osta vedete che mi dimenticavo qualcosa vaffanculo Nicola prima guardiamo il Dolomiti Fantasy quando andrà live mercoledì alle 6 e mezza dalle 6 e mezza alle 8 e mezza prima sessione si sono caduto in interazione dal papero poi sono sempre incazzati e si chiamerà Goffrino perché io giocherò la versione magliarda di Marchino vi dico solo questo gioco Marchino allora Dolomiti Fantasy Dolomiti Fantasy che bello cazzo eccolo qua Dolomiti Fantasy sai che no? sai che c'è il suo del 2023? ah no eccolo qua a Belluno 1 e 2 giugno 1 e 2 giugno 2024 Borgo Valbelluna grande 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 Nicio grande grande la Nidcon stiamo ancora vedendo dove stanno arrivando preventivi devastanti dagli hotel e quindi stiamo cercando cose umane dunque si è il primo festa della TV Nerd e Pop nel bellanese sabato 1 giugno domenica 2 giugno da che ora che ora vediamo Cristina D'Avena oh c'è anche Mauri Comics & Books Board Games e GDR con Dolomiti Nerd e Aleator ragazzi un sacco di roba anche qua programma ma che meraviglia ragazzi Area Games Tonerite bellissimo Area Board Games e GDR 2 Yu-Gi-Oh si sono i mostri di Yu-Gi-Oh e Magic Magic giochi di ruolo Blood Bowl This Game is Shit Star Wars Unlimited giochi da tavolo prova lì madonna che meraviglia ragazzi quindi segnatevi anche questo segnatevi anche Dolomiti Fantasy grazie di ciò per la segnalazione grazie grazie mille altra cosa importante è il giocaosta dove giocano i grandi bellissimo giocaosta è meraviglioso da da venerdì a lunedì dall'11 al 14 dal 9 al 12 quest'anno piazza Shanu bellissimo eh cioè bellissimo ciao newslete per tutti le vinci non ancora Niccio stiamo creando il progetto Camelot se tu vai sul sito di Dead Games e cerchi il progetto Camelot vedi che cos'è dove noi faremo una bacheca con tutto quello che abbiamo visto noi oggi però in un'unica bacheca all'interno del nostro del nostro sito così saprete già dove andare a trovare le cose un luogo una un link unico per germirli tutti beh comunque manda le boiate mercoledì dove lo fanno cosa gioca secondo te scimmiotto ripeto gioca a Osta dove lo fanno il gioca a Osta ad Osta comunque scimmiotto ciao mini a Osta dicio guarda che sei peggio di me te lo dico cioè io sono un beccolo incogliorito tu un disco che sei giovane nel senso ti prego cista no c A Osta ok allora sì sì questa è brutta era una merda c'è il senso c'è Ergut avrà un quarto dei tuoi anni cioè nel senso tu sei già pronto per la pensione lui no quindi c'è probabilmente questo allora considerate questo mercoledì Dragonbane ci ammazziamo ci divertiamo master a Francesco Chirigo quindi sessione sessione proprio paura sembra bello giocare con Fra infatti ogni volta voglio voglio giocare poi invece vi dico già che la campagna dopo la la mastero io che bello che sei Nico madonna mia ho il tdk c'è nel senso hai dei gusti veramente discutibili fratello mentre giovedì torniamo invece con need news non ho Nico il frutto provito 4 quando esci sul tubo dovrebbe uscire adesso cos'è un master anche Marchino al ciuffo si non l'hanno caricata ancora beh dove caricare la l'Erika mi sa che la carichiamo in settimana ragazzi scusatemi col play di mezzo è stato un burdare potete immaginare questo invece domani parte Dragonbane 4 sessioni come sempre e dopo un altro gioco che mi stava andando fuori di melone quindi c'è ci prospetta un bel andiamo avanti tutto luglio agosto smettiamo giugno luglio ancora giochiamo e agosto poi smettiamo e poi riprendiamo a settembre mi piace molto sto format del del need play sono sincero non c'è cosa migliore che farò vedere i giochi giocati poi magari facciamo un mese di one shot in one shot c'è giochi in one shot portiamo The Job portiamo Cosmosaurus portiamo giochi del genere voglio il finale sì mostra molto divertente la campagna di su Discord stai giocando ancora col gruppo sì sì tutti i giovedì sera giochiamo giochiamo sempre non giochiamo su Discord giochiamo su Roll20 però sì giochiamo tutti i giovedì sera sempre il solito gruppo adesso poi che Discord e Roll20 hanno fatto la joint venture e si sono unite giocheremo di best su Discord così tutti quanti possono vedere molto molto figo questa cosa qua di Roll20 e Discord veramente hanno fatto un bel acchiappo comunque per tornare a noi perché così chiudiamo che sono le 7 e devo andare a fare il laggio 24 ma per Dolmenwood ancora pensate un'uscita a Lucca farete una campagna di Dolmenwood prima del lancio chi lo sa probabile noi al momento giochiamo Shonen Force a tema cyber ma fighissimo invece sto giocando Edge Runner perché abbiamo i file di Edge Runner la continuazione dell'anime ovviamente non possiamo dire nulla ovviamente però io so cosa succede dopo sì sì proprio ho tutto bel cofanetto ho i miei dadi gialli e io gioco a Edge Runner la facciazza vostra volete venire sulla luna con me vuoi venire sulla luna con me eh doctor come tu Nicolino comunque tornando a noi sono le 7 adesso possiamo anche chiudere è stata una bellissima live spero che abbiate imparato cose abbiate visto anche io ho imparato un botto di cose quindi ho scoperto non ho imparato ho scoperto un sacco di cose che è bellissimo è motivo per cui è figo fare queste live invitami sulla luna è al massimo Montebelluna con il mio budget ma tu è già tanto se c'è vai perché perché non viene alle fiere Ergot io sto qua mi fa incazzare mi fa incazzare come una bisce vabbè non di conto comunque noi ci vediamo mercoledì per il re sommerso di Dragonbane fate chi è venuto a play compili la survey compilate quella maledetta survey che ci serve di bestia così capiamo come migliorare detto ciò ruolatrice oratori noi ci vediamo mercoledì per Dragonbane ci sentiamo sulla chat della community su Telegram vedetevi fatevi un vostro programma ruolistico dove andare a giocare quest'estate io ne approfitto per darvi un abbraccio gigantesco ci vediamo mercoledì per ruolare duro assieme sul nostro canale Twitch e stasera spero che vogliate ruolare durissimo perché non c'è cosa più divina che lanciare il dadini dalla sera alla mattina vi amo durissimo ci vediamo mercoledì ciao ciao